Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi di 4 gennaio. Vi invito tutti, come al solito, a condividere la rassegna stampa se vi piace. Quali sono le notizie della giornata? Sono varie. Io vorrei aprire da una cosa di cui mi sono un po' fissato in questi giorni, e cioè i cosiddetti sacchetti biodegradabili. Allora, qualcuno può pensare e qualcuno sta, secondo me, scioccamente oggi, criticando quello che ha fatto nascere Giuseppe Marino sul giornale, sostenendo che ci sia un complotto fatto da Renzi, da Cati, a Bastioli, contro i consumatori per farli diventare poveri. Non c'è nessun complotto. Non c'è il complotto, lo dico al mio amico Mattia Feltri, che oggi prende un po' in giro chi critica questo provvedimento. Non c'è un complotto, lo dico all'ottimo Marco Gervasoni del Messaggero. Cioè si critica questa posizione su come è nata la tariffa sui sacchetti. Il tema, amici miei, è un altro. Non è che c'è un complotto, non è che ci sono le stecche, non è che ci sono gli amici degli amici, ci sono anche quelli. Quello che c'è è che in questo paese tassano tutto, a destra, a sinistra, a manca, cioè tutto quanto alla fine ha un prezzo che noi dobbiamo pagare per forza di legge, non per forza di mercato, per forza di legge. Come posso dirvi, se noi ogni anno paghiamo 16,1 miliardi di euro rinnovabili sulla nostra bolletta, caro Gervasoni e caro Mattia, questi 16,1 miliardi, che sono 139 euro ogni bolletta da 500 euro elettrica, non sono una tassa prevista dal governo, sono degli incentivi previsti dal governo nei confronti di poche aziende produttrici. Ve lo ricordate il fotovoltaico, il conto energia 1, 2, 3, 4? Beh, quelli cosa fanno? Tolgono delle nostre bollette e danno soldi a quelli che hanno messo i pannelli. Ce ne siamo accorti dopo dieci anni che stiamo sprendendo 16 miliardi. La stessa cosa sta avvenendo con i sacchetti, cioè in virtù del grande ecologismo e dello spin green del nostro mondo, cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso che i sacchetti biodegradabili siano da pagare e lo facciamo contro, non seguendo una direttiva europea. Andatevela a leggere, la direttiva europea non lo prevede che quei sacchetti siano pagati direttamente dai consumatori e qualcuno potrà dire, ma scusami, che è enorme, altri amici su Twitter sono stati molto simpatici, ma non riesco a capire quel problema se uno paga il sacchetto, perché prima non si pagava, certo che prima si pagava e anche domani si potrà pagare. Il punto fondamentale qua è che hanno fatto una legge talmente assurda per cui quel sacchetto non può essere riutilizzato, ma quel sacchetto viene usato per fare bene all'ambiente. Allora spiegatemi un po' voi, se non puoi riutilizzare un sacchetto perché è previsto dalla legge che non sia riutilizzabile, bene, questo è a favore dell'ambiente, semmai a favore dell'ambiente è qualcosa che posso riutilizzare dieci volte. Ci arriva anche uno che odia l'ambiente come il sottoscritto. Qualcuno oggi su questa materia dice delle cazzate. Il direttore generale della Lega Ambiente, che è stato preso con le mani in pasta da un punto di vista politico, non c'è nessun complotto, dice, ma invece no, sono riutilizzabili i sacchetti. No caro, c'è scritto nelle leggi che tu dovresti conoscere bene. E difatti lui, nell'intervista, dice, verrà fatta una circolare del governo che spiegherà che sono riutilizzabili. Bene, Galletti in un'intervista oggi, sapete che cosa scrive? Sì, non sono riutilizzabili, si possono riportare da casa questi sacchetti, ma devono essere nuovi. Beh, io dico, porco Giuda, siete dei geni. Cioè, io posso partare da casa il sacchetto per fare, misurare le mie zucchine, ma deve essere nuovo. E allora che beneficio facciamo all'ambiente? Io non penso che ci sia un complotto, ma penso che sia, per esempio, Cate Abbastioli, l'amministratore delegato della Novamont, che è un'azienda straordinaria italiana, con dei brevetti straordinari, che dovremmo sì aiutare e fare cambiare del lavoro, magari non nominarla presidente di Terna, come ha fatto Renzi e riconfermarla oggi, perché se uno è così bravo a fare il suo mestiere, perché gliene fai fare un altro di una società pubblica? Ma lasciamo perdere questo discorso, cioè che Renzi l'ha fatta anche presidente di Terna, e Gentiloni l'ha confermata presidente di Terna, nonostante lì abbia una grande azienda, questa Novamont, di cui si potrebbe occupare a tempo pieno. Ma io mi chiedo, Cate Abbastioli, quando ti fanno una domanda sui giornali e ti dicono, scusi, lei ci guadagnerà da questi sacchetti, avrete grande vantaggio economico? Non risponde, non risponde! Allora potrebbe dire la cosa che chiunque sa, nei grandi supermercati, S.Lunga, Coop, Conad, sapete chi è il mercato, chi ce l'ha il mercato di questi sacchetti all'80%, non al 50% come dice lei in Europa, ma in Italia all'80%, esattamente la Novamont di Cate Abbastioli. Certo, io non penso che ci sia un complotto, penso che vada tutto bene, però ragazzi, non ci prendete per i fondelli, avete messo una tasse in più, come metteste gli incentivi sul fotovoltaico, c'è qualcuno che ci guadagna e questo è normale, c'è qualcuno che pochissimo all'anno ci perde, è vero, 3 euro, 4 euro Mattia, 5 euro all'anno, 5 euro fatto per 20 milioni di famiglie che vanno al supermercato una volta alla settimana, sono 350-400 milioni di euro che escono dalle nostre tasche e vanno in quelle di aziende che producono sacchetti di plastica. Queste aziende per l'80% sono una che si chiama Novamont, tutto là non c'è nulla d'altro, non c'è nessun complotto e sono anche dell'idea che queste cose in Francia le fanno continuamente nei confronti delle loro aziende nazionali, solo che non fanno quelli che cadono dal pero e non fanno gli indignati, no? Signora Cate Abbastioli, grandissima imprenditrice, grandissima chimica, tutto quello che volete, ma non fate quelli che cadono dal pero o che dicono non so se lavorerò più in Italia. Eh sì, vai in Francia che ti fanno un mazzo così i francesi proprio perché fanno le stesse politiche che ha fatto Renzi, cioè aiutano le imprese francesi. Dove vai? Dove vai? Bene, Candidati 5 Stelle, va in tilt il sistema perché ieri si doveva autocandidare per diventare possibile candidato delle parlamentarie e poi ovviamente sarebbero stati selezionati da Grillo, insomma no, selezionati diciamo dalla rete, da Russo, ma il sito va in tilt. Non mi scandalizzo, oggi i giornali parlano del tilt del sito e dicono è un casino questo sito, è difficile fare un sito in cui tutti si vogliono candidare. Io ho avuto un'impressione chiarissima, chiarissima. Qua ragazzi siamo passati da un campo all'altro. Sapete qual è il campo? È come il concorsone. Oggi iscriversi al sito Russo del Movimento 5 Stelle vuol dire avere un lavoro, vuol dire essere sicuramente eletti se si vince alle parlamentarie o comunque avere una buona possibilità di essere eletti. È il concorsone. Sono come quei 30.000 che si mettono in fila per fare gli infermieri, solo che quelli devono avere una competenza e devono rispondere a alcune domande e in questo caso invece decidono 30-40 amichetti loro che sono forti sulla rete e Di Maio e Grillo né più né meno. Il concorsone si passa dalla sanità, dai vigili urbani, dalla pubblica istruzione, dagli addetti al ministero degli interni sugli ultimi concorsi a quelli del Movimento 5 Stelle. Tanto che il Movimento 5 Stelle alcuni di quelli che ieri non sono riusciti a registrarsi nel sito di Russo che cosa hanno detto? Faremo ricorso. L'Italia dei ricorsi, l'Italia dei concorsori è una cosa straordinaria. Ovviamente Bonafede parla di fake news, non esiste alcun malfunzionamento del sito. Bonafede! Aò! E vaglielo a spiegare a quelli che ieri ci hanno provato a candidarsi. Tra i candidati c'è Paragone! Paragone! Passato da Lega, Berlusconi, Movimento 5 Stelle. Speriamo che loro applichino a lui quella norma là dei 100.000 euro perché io così sicuro che Paragone rimanga tutta la mia legislatura con Movimento 5 Stelle non sarei. Con lui anche Emilio Carelli, Gian Russo che è quello che ha fatto, quello delle Iene che ha fatto l'inchiesta su Brizzi e Lanutti. Per fortuna speriamo di togliercelo dalle ospitate televisive Lanutti. Nordio fantastico sulla Raggi ci spiega per quale motivo la Raggi ha chiesto su un processo che secondo me è assurdo assurdo cioè io sono penso che la Raggi debba essere colpevolizzata per la sua incapacità nel gestire Roma non per il fatto che sceglie Marra che è un delinquente pare secondo i magistrati o corrotto non per la scelta dei suoi uomini in Campidoglio su cui tutti i giornali insistono per me i problemi gravi sono i rifiuti non i suoi visi di garanzia comunque ha scelto il rito abbreviato Nordio ci spiega chiaramente cosa vuol dire siccome questo rito abbreviato lo sceglie alla fine del tempo in cui lei aveva la facoltà di sceglierlo e non subito dice Nordio ragazzi ma di che stiamo parlando il rito non chiede il rito abbreviato perché vuole andare subito a dibattimento ma perché non vuole che ci sia durante la campagna elettorale un processo con tutte le carte che escono e sopra i giornali che ci inzuppano e le opposizioni che ci inzuppano sopra il loro biscotto ovvio che ha ragione Nordio ovvio che ha fatto bene la ragione ad andare all'abbreviato Boldrini Mogherini e Bonino secondo un titolo oggi del giornale sono donne sottomesse per la questione iraniana ovviamente fondo di Sallusti condivisibile al 100% ma in realtà la cosa straordinaria ce la racconta Capezzone la Mogherini cosa fa tra le due parti cioè tra i manifestanti in Iran e le autorità dice mettetevi d'accordo cercate di trovare un accordo ma come dice Capezzone cioè non stai con i manifestanti Mogherini non stai con la donna che si è tolto col velo stai con i guardiani della rivoluzione tu Mogherini stai con i guardiani della rivoluzione fantastico l'ultima battuta di Capezzone che ha detto dopo non aver fatto nulla se non stare equidistante tra i manifestanti e quelli che li ammazzano quello è successo cioè i guardiani della rivoluzione sapete per dove parte la Mogherini Cuba Cuba ha detto vai in un altro regime io trovo fantastico il fatto che noi europei altro che complotto dei sacchetti altro che cioè probabilmente il costo della Mogherini i milioni che buttiamo nei viaggi della Mogherini perché vada a Cuba ma voi vi rendete conto ma perché dobbiamo pagare un politico perché vada a parlare a Cuba quando il politico nei suoi uffici di Bruxelles manco si rende conto che c'è una manifestazione in cui ci sono dei morti in Europa mentre nel frattempo ovviamente se fosse avvenuto qualche cosa in Italia di men che politicamente corrente avremmo avuto la Mogherini in primo campo sbaglia pensare però Sallusti che Boldrini Mogherini e Bonino sono donne sottomesse perché gli affari loro se li fanno benissimo come dimostra il piagnucolare della Bonino su questa roba del referente delle firme che non c'ha per il PD a ragione Giovanni Negri oggi sul giornale intervistato dice la Bonino è soltanto una caricatura dei vecchi radicali bene eh sì Giovanni va a Cuba a prendere il sole è meglio è l'unica cosa che forse le può riuscire bene lì forse si toglie il velo per prendere il sole a Cuba vi do un grande saluto condividete questa zuppa oggi pomeriggio sul sito nicolaporro.it metterò tutti i motivi per i quali la questione delle bustine di plastica non è una fake news non è un complotto ma neanche una fake news ciao